Il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni, rappresentato dal Presidente Tommaso Pellegrino e dal Direttore Romano Gregorio, ha portato al Vinitali di Verona, la più grande manifestazione dedicata al mondo del vino, due importanti progetti. L'ente Parco ha presentato le due iniziative, i vini dei parchi nazionali della Campania e i vitigni autoctoni del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni. Quest'ultima è stata presentata presso l'area conferenza della Regione Campania. Una variegata e pregiata carta dei vini dei parchi nazionali della Campania che ha portato così ad una vera e propria collaborazione tra i due enti parco, quello del Cilento Vallo di Diano e Alburni e quello del Vesuvio. Da millenni la viticoltura è radicata nel territorio del Parco del Cilento e ha contribuito a plasmarne il paesaggio. Negli ultimi anni si sta recuperando il binomio vitigno-territorio fondamentale per la tipicizzazione e la differenziazione della produzione enologica. In questo contesto prende vita il progetto del Parco dal titolo dai vitigni del passato, i vini del futuro.